ciao anna ciao davide allora come vi avrà già anticipato l'architetto croci per fare un ascensore con l'agevolazione gli ecobonus e superbonus del 110 per cento bisogna fare un ascensore che abbia delle caratteristiche queste caratteristiche vende devono essere minimo 800 di larghezza per mille e due o metro e venti di lunghezza della cabina per fare questo per muovere l'ascensore su e giù c'è bisogno di una struttura intorno che sia abbastanza grande cioè un metro e venti per un metro e quaranta e allora con queste misure nuove che ci hanno dato ufficiali definitive e settimana scorsa abbiamo disegnato l'ipotetico ascensore dove dovevamo metterlo prima solo che viene un po più largo deve essere più largo perché ci deve essere tutta la strumentazione la strumentazione dicevo e oltretutto per far così bisogna demolire e ricostruire tutto quello che è la scala del condominio che va su qui c'è il pianerottolo poi da qua torno su di qui e bisogna ricostruire questo muro tutto è fattibile tutto è possibile mi è venuto però oggi pomeriggio anzi stamattina un pensiero perché gentilio ha detto ma perché non lo facciamo vediamo di farlo sul balcone ed effettivamente viene fuori una soluzione interessante sotto molti punti di vista ragionando un po su questo e anche sul fatto di quello che dice anna cioè quando vado sotto mi segno primo ma manca l'aria manca la luce oggi pomeriggio ho disegnato un paio d'ore anzi un po di più e ho cercato di vedere trova una soluzione simpatica che offre luminosità e allora lo spostiamo lo spostiamo e abbiamo una soluzione molto più comoda perché partiamo dal piano più basso cioè la cantina siamo al piano cantina e qui abbiamo deciso di lasciare questa zona che magari la usiamo per i bollitori le batterie dell'impianto fotovoltaico ci penseremo e qui dobbiamo solo scavare questo pezzo qua a livello della taverna e costruire e spostare qui l'ascensore l'abbiamo spostato lì quindi piano terra ci arriviamo comodi questo muretto qui è all'altezza del giardino poi qua ci saranno delle belle finestre vedrà un fuori tutto bello più luminoso tipo se noi andiamo in cortile per esempio a questo punto si vede come viene finito allora qui siamo a livello il verde è il livello dove parcheggi la macchina dove arrivi con col motorino e l'ascensore arriva qua ok tu arrivi col motorino entri dentro nell'ascensore e sei a livello del giardino a questo punto sali il piano appartamento che pensato con un con un'idea di fare una serra solare bioclimatica per il recupero dell'energia durante l'inverno recupero solare e raffrescamento d'estate a questo punto ti diventa una zona di ingresso della casa dal balcone dal dal giardino che non dico riscaldato ma anzi fa da isolante da riscaldante anche nelle belle giornate di sole e quindi saresti sempre in casa tua e avresti un bel balcone davanti seppur più piccolo ma il balcone enorme da qua visto che noi dobbiamo entrare con motorino comodi per prendere l'ascensore andare in casa oppure per prendere l'ascensore andare giù in taverna qua sopra li mettiamo i nostri pannelli solari e direi che abbiamo raggiunto l'ottimo della situazione con dei bei finestroni grandi qua davanti che illuminano la zona del cortile qua sotto che comunque una zona alta un metro e settanta magari forse qualcosa di più bisogna anche vedere poi le altezze del pavimento che tutto si basa su quello comunque mi sembra una soluzione interessante cosa ne dite mi sembra un'ottima soluzione perché dal punto di vista di luminosità qui siamo nella zona del sotto balcone con queste belle aperture con doppi vetri tripli comunque luminose qua c'è un'altra vetrata o comunque un altro vetro anche questo doppio triplo quindi a doppio isolamento e sono nella zona della cantina che è l'ingresso comodo dell'ascensore per motorino che entra da qua da dentro la taverna io questa questa porta aperta su una grande vetrata che comunque è doppiamente isolata e quindi aiuta a mantenere una temperatura buona da qui salgo basta arrivo dall'altra parte così entro track esco e hai qui tutto il tuo spazio di manovra per uscire comoda e 6 alla macchina piuttosto che va in giardino oppure tre riprendi l'ascensore e a questo punto andiamo al piano appartamento ok eccoci qui guardiamo da quest'altro punto di vista allora prima eri qui col motorino al giardino prendi l'ascensore dritta l'ascensore sale e dritta esci e sei in casa o meglio sei nella tua bellissima serra solare ed inverno ti metti qui fuori stai al caldo ma con tutte le vetrate che si aprono dopo pianta o si chiudono se è come se fossi all'esterno mi piace molto questa cosa qua